Bentornati cari followers di TheWebProf, oggi ci occupiamo di un sistema molto carino disponibile online che ci permette di creare collage di fotografie esattamente come quella che state vedendo in questo momento che ho creato io con pochi semplici passaggi e che mi ha dato effettivamente un risultato finale molto molto carino e accattivante in questo caso l'ho legato alla fantascienza ma come vedremo nel corso di questo video possiamo creare collage fotografici su qualunque tematica didattica ci possa interessare grazie appunto al programma che andiamo ad analizzare in questo momento prima di partire da zero e creare nuovamente questo collage vi faccio vedere da dove sono partito quindi da questo sito che è quello che analizziamo oggi, fotocollage.com e questa è la schermata che io ho creato, il modello che ho creato insomma, il template che poi ha portato al salvataggio dell'immagine che avete visto in precedenza bene, a questo punto resettiamo tutto e costruiamo da capo questa immagine vedendo tutte le varie potenzialità e funzionalità di questo programma che in realtà è molto semplice intuitivo ma che permette di fare davvero tante tante modifiche questa è la situazione di partenza, siamo su fotocollage.com troverete il link anche nella descrizione del video e ci troviamo di fatto di fronte a un background, cioè uno sfondo impersonale senza particolari decorazioni ma con una scritta che ci fa già capire il sistema di utilizzo che ha appunto fotocollage, drag and drop your images here or browse cosa vuol dire? posso semplicemente caricare le immagini che mi servono in due modi o trascinandole da una cartella già preesistente oppure andandole a cercare nel mio computer facciamo entrambe le procedure prima di tutto, vogliamo utilizzare fotocollage per un'attività didattica con i nostri alunni? quindi consigliamo ai ragazzi di creare per esempio una cartella in cui inserire appunto tutte quante le foto che noi legheremo a un argomento facciamo un esempio oggi, quello legato alla fantascienza quindi andiamo a vedere appunto il deposito dove ho appunto inserito le foto che mi serviranno bene, ho creato la mia cartella o i nostri alunni insomma hanno creato la nostra cartella e hanno selezionato le foto che sono più utili per il lavoro a questo punto ci sono due modi quindi uno, il più classico, è esattamente questo cioè di catturare e spostare la foto all'interno del nostro sfondo, del nostro background quindi in questo caso io ne ho messa una a questo punto posso, poi vedremo anche come, spostare questa immagine in qualunque punto esattamente come voglio allo stesso modo posso caricare poi ancora una volta le altre oppure semplicemente fare un'altra operazione che è quella di selezionarne anche più di una assieme e spostarle, anche in questo caso tutte quante, qui dentro aggiungiamo a questo punto anche l'ultima che è quella dell'alieno e completiamo il discorso beh, in questo caso li vedremo tutte quante sparpagliate in generale perché questa poi è enorme e ha coperto tutto, non è in realtà un problema facciamolo capire anche ai nostri ragazzi perché basta semplicemente cliccarci sopra per risistemarle e quindi trovare la giusta collocazione a tutte quante anzi, questo è soltanto l'inizio di tutta una serie di personalizzazioni che possono essere fatte in alternativa si possono caricare le foto anche in un altro modo o con quel tasto browse oppure semplicemente con questo il più add image che è la stessa cosa però in questo caso il programma mi porta direttamente nella cartella e io posso fare lo stesso cosa le carico direttamente dalla cartella del computer quindi o le trascino o le carico ma il risultato sarà fondamentalmente sempre lo stesso bene, a questo punto ci si apre davvero una grossa mole di personalizzazioni ripeto, il sistema è molto molto intuitivo ma ci permette di fare tante cose delle due l'una l'approccio può essere di due tipi io ho caricato le immagini a questo punto posso ridimensionarle e ruotarle esattamente come voglio quindi dando un effetto particolare anche magari di immagini sovrapposte, nessuno ce lo vieta oppure posso fare una cosa che è molto molto carina e ci permette di fare davvero tante tante modifiche anche molto accattivanti andiamo in effetti su template il template è il classico template che si trova in tanti programmi di modifiche eccetera e ci permette di, ecco, dare una forma particolare e una posizione particolare all'interno dello sfondo attenzione PhotoCollage cerca di aiutarvi quindi vi propone fin dall'inizio soltanto i template corrispondenti al numero di foto che avete scelto avete inserito 5 foto? lui vi metterà per prima i modelli che comprendono 5 foto soltanto infatti se andate a guardare sono tutti quanti da 5 ne proviamo uno, questo è il template 26 ecco, ci ritroviamo di fronte all'alieno che compare in primo piano effettivamente ma in questo momento vediamo che in effetti le immagini si sono fuse hanno creato un unico modello preimpostato chiaramente da PhotoCollage ed hanno un effetto grafico anche molto molto carino non siamo obbligati a usare questo, ce ne sono tanti da 5 ad esempio questo qui che è più tradizionale ce li piazza direttamente secondo un ordine più classico o addirittura questo con i cerchi quindi possiamo fare un po' quello che vogliamo anzi vi faccio notare che ho aggiunto un'altra foto rispetto al modello originale proprio per farvi vedere anche dei template diversi anche questo per esempio è molto carino qui addirittura ha già inserito un elemento che noi però possiamo scegliere a parte dopo e vi dirò appunto come in questo caso comunque scegliamone uno e poi appunto ci muoviamo direttamente con tutte le altre possibilità ve ne faccio vedere ancora qualcuno in particolare ok partiamo da questo che ha anche un bel effetto è diverso da quello che ho utilizzato prima ma meglio ancora così vediamo più possibilità allora questo template ci ha già modificato parecchio l'impostazione anche perché se vedete ha già creato un effetto blur cioè praticamente quella sorta di distorsione di ombra attorno alle immagini ma importante noi possiamo fare anche una cosa cliccare su ciascuna delle foto e cominciare a modificare ciascuna foto appunto secondo altri sistemi ad esempio io posso dare un contorno diverso facciamo che a me piace per esempio il cerchio vediamo un po' e magari voglio mettere anche un po' di bordino attorno non sono obbligato ma potrei mettere facciamo a tre se io vado a vedere su close noterò che in questo caso cosa è successo? il mio collage è cambiato perché in questo caso ho un disco volante che è circondato da questo bordo bianco e in realtà c'è anche un po' di effetto blur attorno non sono obbligato a farlo così se volendo posso ritornare a modello originale ecco qui ritorno alla prima selezione metto ancora 0 e lascio stare lo lascio esattamente come era prima l'importante però è che io abbia questa possibilità quindi se per esempio voglio creare un effetto un po' più particolare ecco lo sciattolo questa astronave deve essere messa in evidenza in modo anche più come dire vivace posso appunto creare invece un contorno molto fumettoso tenete conto che ecco io ho una possibilità di inserire anche elementi fumettosi in questo discorso particolare la stessa cosa la posso fare anche ripeto con ad esempio le altre immagini ci sono alcuni effetti molto simpatici anche che adesso andiamo a vedere e si trovano nella parte più a destra alcuni sono un po' particolari non dipende molto dal gusto personale ad esempio in alcuni casi viene tagliata una parte dell'immagine qui si nota poco ma su altre si noterebbe molto di più in altri casi si crea invece una sorta di cornice quindi qua si crea un quadro per esempio ma in altri casi ancora si va sul cinematografico o addirittura questo che è molto carino che si vedeva anche prima che è appunto la resa grafica di un post-it da un certo punto di vista di una vecchia foto che viene attaccata con lo scotch o ancora per esempio l'effetto cinematografico o ancora questo per esempio un po' più legato a una sorta di modello vintage o questo anche che è bello quindi noi abbiamo una grossa grossa disponibilità a prescindere di oggetti e di personalizzazioni da poter utilizzare in questo caso specifico inoltre ci sono anche tanti altri aspetti che possono essere utilizzati ad esempio il testo si potrebbe volendo aggiungere anche un testo al risultato finale semplicemente basta poi come al solito ecco basta cliccarci sopra perfetto e scrivere un qualcosa in particolare ad esempio fantascienza bene posso selezionare addirittura anche un carattere ne ho tanti ce ne sono diversi quindi volendo posso scegliere facciamo che conservo ancora l'area in questo caso e cambiare ancora tanti altri aspetti ad esempio il colore magari voglio mettere un verde facciamo un tentativo ecco vediamo come viene l'ho selezionato lo rimetto e faccio ok per il momento lasciamo ancora così ecco si può ancora mettere per esempio il testo a sinistra a destra o al centro bold come al solito grassetto italico eccetera bene vediamo l'effetto finale che può uscire eccolo qui molto classico intendiamoci in questo caso non l'abbiamo usato in modo particolare però ecco si può aggiungere un testo si potrebbe aggiungere perfino una idea scadia anche senza esagerare troppo però con il testo che viene inserito all'interno questo è quindi un altro aspetto carino ci sono gli stickers anche e ce ne sono tanti e questo è un aspetto molto simpatico che magari non si trova in altre situazioni premesso che volendo possiamo caricarne anche di nostri se li abbiamo creati abbiamo tutta una serie di categorie particolari animali frecce edifici abbigliamento cibo c'è di tutto in realtà anche mezzi di trasporto per esempio eccetera quindi qui se vogliamo possiamo dare un tocco molto carino e divertente anche con l'aggiunta di questi adesivi particolari voglio inserire un razzo visto che siamo in tema ecco allora all'inizio lo mette veramente grande quindi questo sticker che è uno sticker si vede molto è un adesivo pre carino come effetto ecco può andare ad accompagnare l'immagine del pianeta anche perché i colori sono molto simili il caso vuole che sia così quindi lo posso inserire qui poi di base la scelta era molto molto ampia perché se andiamo a guardare c'erano anche le emojis addirittura possono essere utilizzate anche le emoji quindi c'è una scelta molto molto grande anche di potenzialmente di questi simboli e quindi abbiamo tante tante possibilità e quindi alla fine arriveremo a un risultato finale che ci può soddisfare questa è un'altra opzione swap photos se lo sclicchiamo praticamente succede che cosa che il programma ci sposta la posizione delle foto in base a una sua scelta personale quindi ci cambierà la posizione delle foto in poche parole la griglia in realtà permette di avere se vogliamo è questo praticamente una sorta di griglia che divide appunto il background ma volendo possiamo appunto anche eliminarla il preview collage collage ce lo fa vedere prima quindi noi possiamo sempre renderci conto appunto del risultato finale che potremo ottenere l'autocollage è un'altra cosa in poche parole se noi lo clicchiamo specialmente all'inizio il programma deciderà per conto suo esattamente per conto suo di posizionarci le foto secondo un certo ordine in base a un certo modello cioè sceglie lui invece di me può essere un'idea anche in certi casi tenete conto che spesso si basa però su modelli abbastanza canonici e classici ripeto poi i template l'abbiamo già visto invece ci permette di scegliere il modello di disposizione delle immagini una cosa veramente bella è il background perché ci dà una possibilità enorme di scelta noi possiamo mettere uno sfondo scegliamone uno tradizionale che ci dà subito la libreria di questo programma e facciamo app ecco noterete che appunto si è creato un background anche già molto carino ma facciamo un caso che vorremmo mettere qualcosa di più simpatico abbiamo una scelta enorme in realtà legata al fatto che c'è la libreria di questo programma ma ci sono anche per esempio i colori classici io posso mettere un background rosso faccio ok ecco il background è rosso stop semplicemente c'è uno sfondo ci sono anche i gradienti per decidere appunto il colore che vogliamo mettere oppure anche altre caratteristiche allora image qui posso volendo mettere un'immagine mia che ho sul computer e utilizzarla come sfondo quindi anche in questo caso me la sono scelta già prima magari e la inserisco o utilizzo queste librerie appunto come pizza bay o unsplash che sono collegate a questo programma a questo sito insomma ad esempio se io metto qui space visto che siamo sempre in argomento avrò tutta una serie di lavori anche fatti da altre persone quindi volendo li posso scegliere magari questo e andare ad applicarlo e fa un bel effetto davvero questo è molto molto carino allo stesso modo c'è ancora un'altra possibilità che era legata a quell'altra libreria unsplash anche qui ce ne sono altre quindi volendo qui posso ancora andare a selezionare un'altra e mettere per esempio questa ma qui non è obbligatorio sceglierle nelle librerie online si può anche semplicemente chiedere ai ragazzi di scegliere loro un'immagine che potrebbe essere bella per il proprio sfondo e a quel punto la caricano direttamente come hanno fatto anche con le altre immagini e quindi avremo a che fare con uno sfondo particolare che viene a crearsi bene notate una cosa compaiono questi numerini non sono messi a caso esattamente vi sta dicendo che cosa avete fatto cosa avete aggiunto al modello originale in base alle vostre scelte ho aggiunto 5 foto ho aggiunto un testo ho aggiunto uno sticker effettivamente è vero ultima parte il salvataggio posso salvare come immagine sd o hd diciamo scegliamo quella alta definizione e la chiamiamo per esempio fantascienza 1 quindi adesso stiamo facendo una cosa molto semplice ci scarichiamo esattamente l'immagine nel formato che vogliamo jpeg png o pagina web facciamo jpeg e salviamo allora va avanti e noi dovremmo andare a cliccare a un certo punto alla fine su download che è il tasto finale bene facciamo questo la scarichiamo e compare esattamente qui sotto niente di particolare la apriamo e la salviamo esattamente dove vogliamo noi quindi ecco c'è uscito semplicemente un file molto molto semplice da gestire invece esiste un'altra possibilità che è il save online ma in realtà per attività didattica non è neanche obbligatorio e facoltativo anche perché di fatto è un'immagine che viene salvata online ma non viene legata a nessun account specifico però si può fare vi faccio solo vedere in realtà dove va a finire questa immagine se noi andiamo a salvarla creiamo praticamente un'immagine di ingur che in breve è una piattaforma che permette di condividere fare sharing di foto a livello gratuito quindi se noi la salviamo la andiamo esattamente a salvare in questa piattaforma diventa a disposizione poi di tutti in definitiva ma non è obbligatorio e in realtà in questo caso basterebbe anche soltanto salvare l'immagine jpeg e condividerla grazie